Ciao ragazzi, ciao amiche, ciao amici, benvenuti in un nuovo vlog flash Allora, vi voglio... ho bisogno del vostro aiuto Vi voglio chiedere, siccome vogliamo fare un nuovo MyFollowerControlMyLife Le domande preferite che le facciamo su Youtube Tipo a modi sondaggio O su Instagram, o su entrambe le piattaforme Non lo so, come preferite Che così almeno ci divertiamo, c'è più interazione Tutti possono partecipare ai sondaggi Fateci sapere, siccome vogliamo portare video divertenti, belli Comunque ragazzi oggi fa un caldo bestia Mamma mia, quanti gradi ci saranno? Io primo la 25 E state piene ragazzi, cioè se io ci fosse il mare E subito mi tuffarei Domani da pioggia No vabbè Però questo sbalzo anche no Comunque ragazzi, tornando a noi Vi voglio chiedere appunto Mi serve appunto il vostro aiuto per capire I sondaggi dei follower ControMyLife O comunque i sondaggi in generale Se li volete anche su YouTube O su Instagram O entrambi Ecco, fatecelo sapere Che così almeno ci organizziamo di conseguenza Ecco E poi tante sorpresine in arrivo Quindi ciao Ciao Ciao